Dopo la pandemia è necessario un rinnovato impegno contro le mafie a tutti i livelli e soprattutto in vista delle elezioni comunali e con l'arrivo di ingenti risorse per il Recovery Fund. È il messaggio emerso dall'ottava edizione del Premio Nazionale Amato Lamberti per la consegna delle borse di studio alle migliori tesi sui temi della criminalità organizzata. Sono intervenuti il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Caffiero De Rao, il Capo della Polizia Lamberto Giannini, l'Assessore Regionale alla Formazione Armida Filippelli e il Sindaco De Magistris. Dal Procuratore Antimafia l'appello ai candidati alle prossime elezioni. Coloro che vanno a ricoprire un impegno così importante come quello rappresentativo della città devono essere persone non solo al di sopra di ogni sospetto ma al di fuori di ogni compromesso e di ogni accordo anche lontano con determinate categorie e soprattutto devono essere i garanti della legalità. Qui al sud è la camorra che genera povertà, genera disuguaglianza, genera confusione. Quindi credo che questa è una posizione ferma che la politica deve assumere. Una menzione speciale è stata attribuita a Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida, ed è stata anche l'occasione per parlare di violenza giovanile e dell'influenza dei social come TikTok sulle nuove generazioni. Io credo che il controllo del territorio sia fondamentale anche per i più giovani. Fra i giovani mai dovrebbero avvenire vicende di violenza come quelle alle quali si sta assistendo.